La Regione Toscana ha destinato 100.000 euro al progetto di paesaggio finalizzato a valorizzare il Prato Magno. Nelle immagini vedete la firma del relativo protocollo fra l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli e i rappresentanti dei comuni del Casentino e del Valdarno coinvolti. Il progetto di paesaggio consente di pianificare lo sviluppo di alcune aree, mettendo nel risalto le peculiarità paesaggistiche, storico, culturale e ambientali. L'obiettivo è avere indipendentemente dalla frammentazione che è prodotta dai confini comunali una pianificazione, una programmazione che sia unitaria e che ci consenta poi di inserire questo progetto di paesaggio nel piano così come la legge prevede. Il protocollo prevede varie azioni comuni anche per tutelare i percorsi storici, le piste ciclopedonali e le ippovie, censire beni storici e architettonici, produrre energia pulita e promuovere il turismo all'aria aperta in modo compatibile con il contesto ambientale. Il piano del paesaggio è quello strumento che può finalmente dare quelle opportunità di crescita economica e di sviluppo turistico e quelle opportunità che oggi le popolazioni che stanno appunto in Platomagna e che vogliono continuare a viverci non hanno avuto. Il comune di Loro Ciuffenna è capofila del progetto.